Sembra una storia di vent'anni fa, eppure si ripete, parliamo del piano del traffico dove già dall'epoca giunta a Egli, progressivamente con la grande amica Ondina Barduzzi, una dei pochi essenziali seri che abbiamo avuto per quel che riguarda pianificazioni, insomma si fanno questi piani, dopodiché in teoria ci sono due anni di tempo per metterli in pratica, almeno qualcosina, puntualmente rivediamo la storia della decorrenza dei termini e quindi, come posso dire, i grandi progetti delle grandi rivoluzioni vanno a farsi benedire e ormai manca poco anche a questo piano. Beh, io dico purtroppo manca poco, la storia che hai fatto è assolutamente quella di questa città, molti piani, molti progetti accantonati, abbandonati probabilmente volutamente per motivi, come posso dire, di gestione politica. Questo piano decadrà di fatto ai sensi della circolare ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e Lavori Pubblici il 7 luglio del 2015, se non sarà attuato completamente, compresa segnaletica orizzontale e verticale, come dice la norma, e quindi ci troveremo di nuovo davanti a uno strumento approvato, voluto, votato anche dal Movimento 5 Stelle, e quindi voluto dal Consiglio, che non viene attuato, non viene attuato per un forse inerzia iniziale casuale, ma poi certamente non attuato per volontà politica e oggi per non incidere con la campagna elettorale che sta partendo. Senti, che il piano del traffico sia tanto bello sulla carta a livello universitario, perché effettivamente è futuristico, però, e io mi ha lasciato un po' perplessa, un comunicato stampa di fatto a firma del vice-sineco Martini, e brutto tempo non si chiude via Imbriani e via Mazzini. Allora, ci non potremmo che avere un piano del traffico che si usa o meno a seconda se è bello o brutto tempo, perché da là vedi che la Marchigiani non me ne voglia affatto una cretinata. Ma io ho un'opinione leggermente diversa. Forse più da tecnico che da cittadino o da politico. Credo che l'attuazione di un piano che viene appunto attuato per fasi sia valutabile esclusivamente dopo che saranno attuate tutte le fasi. Noi oggi abbiamo i famosi P-Day, cioè chiudiamo via Imbriani e via Mazzini. E il piano prevede questo nella fase definitiva, ma prevede anche delle misure di compensazione della gestione del traffico che non vengono attuate oggi quando si chiudono via Mazzini e via Imbriani. Per cui noi abbiamo una componente di traffico che si sposta su Corso Italia che è molto più pesante della componente di traffico che ci sarà quando avremo attuato le altre parti, cioè ad esempio il doppio senso in via Carducci. Quindi il traffico in discesa via Battisti non avrà più da fare il giro per via Val di Rivo e tornare su per Corsi Italia e quindi appesantire il traffico su Corso Italia, ma potrà svoltare a sinistra in via Carducci, poi fare il Corso Sabe, eccetera, eccetera, fino a via dell'annunzio, eccetera, eccetera. Per cui è chiaro che oggi chiudere via Imbriani e via Mazzini senza queste misure di compensazione comporta un aggravio di Corsi Italia che non è in grado di sostenere per mezz'ora la mattina e mezz'ora pomeriggio, per altro. Sì, però io ti ricordo anche una cosa. Parliamo di traffico invece peronale. Questo piano del traffico va a distruggere quello che è il più importante hub dei mezzi pubblici, cioè Piazza Goldoni, dove da Catinara, da San Giovanni, da Roiano a Valmaura di fatto per un anziano anche 200-300 metri vuol dire tanto. Ce ne abbiamo distrutto con questo piano un punto storico di riferimento per i pedoni e per chi utilizza il mezzo pubblico. In realtà viene forse ridotto l'hub di Piazza Goldoni ma non viene distrutto perché Corso Saba sarà comunque una parte preferenziale di trasporto e da Piazza Goldoni, anche se rimane Corsi Italia per il traffico o per il trasporto pubblico locale, quindi la destinazione dei mezzi di Corsi Italia sarà sempre Piazza Goldoni. Per cui in realtà credo che di capolinea da Piazza Goldoni non ricordo ma credo che non se ne va nessuno dei capolinea. Poi ci sarà una revisione di tutte le linee di trasporto pubblico dove la proposta di piano è indicativa e ovviamente non cogente perché non può esserlo visto che la competenza è della provincia. Io ritengo che anche sul trasporto pubblico locale c'è un vantaggio grosso dal piano perché ci sarà un incremento sostanziale, credo una triplicazione ma vado a memoria delle corsie preferenziali che dovranno essere reali perché spesso sono in centro careggiata quindi non c'è più la possibilità di parcheggiarsi nella corsia preferenziale. Poi tutto è perfettibile, noi non pensiamo che questo sia il piano migliore in assoluto che si poteva fare ma penso che il meglio sia nemico del bene. Penso che questo lavoro sia stato un buon lavoro, che sia un piano del traffico che ha messo al centro le categorie deboli della mobilità, che sono pedoni e ciclisti che ha messo subito dopo il trasporto pubblico locale e che ha gestito nella fase diciamo meno dando l'importanza che anche la normativa dà, cioè quella in seconda e terza fila al trasporto privato e alla sosta. Non tutti saranno contenti di questo piano ma è ovvio che quando si cambiano le cose c'è una parte che è contenta e una parte che si scontenta noi riteniamo che a essere contenti sono gli utenti deboli questo è un piano che migliora la situazione attuale.